Secondo me, io la vedo così, secondo me c'è sempre qualcosa da dire, c'è su qualsiasi argomento. Secondo me non esiste una cosa normale, troppo normale, troppo banale, troppo semplice perché non ci si possa dire sopra qualcosa di intelligente, di originale, persino dispiazzante. Secondo me se uno non ha nulla di intelligente e di originale da dire su un argomento, non è colpa dell'argomento, è colpa sua. Vuol dire che su quell'argomento non è abbastanza preparato, che non ci ha pensato abbastanza, che non è abbastanza intelligente. Secondo me se uno fosse un poeta infinitamente potente, per astratto, potrebbe scrivere un poema su un bicchier d'acqua. Non so se vi spiego. Allora, per esempio, alcuni grandi poeti polacchi, che io amo, per me la poesia moderna polacca è forse l'apice della poesia, la poesia polacca è come dire gli orologi svizze, come dire le macchine tedesche. Alcuni grandi poeti polacchi hanno scritto dei brani, delle poesie bellissime, non sui bicchier d'acqua, che non sono abbastanza grandi, però su una cosa quasi altrettanto semplice, quasi altrettanto arida in apparenza, quasi altrettanto inservibile come argomento ha scritto tutta una poesia. I sassi. Ha scritto delle poesie bellissime sui sassi. Sassi normali, non sassi particolari. Ad esempio c'è una poesia, grandissima, grandissima poeta, Zbigniew Herbert, scrive questa poesia e si chiama Il Ciotolo. Dice così, breve, è breve, però. Il Ciotolo è una creatura perfetta, uguale a se stesso, attento ai propri confini, esattamente ripieno di senso pietruso, con un odore che non ricorda nulla, non spaventa nulla, non suscita desideri. Il suo ardore e la sua freddezza sono giusti e pieni di dignità. Provo un grave rimorso quando lo tengo nel palmo e un falso calore ne pervade il nobile corpo. I ciotoli non si lasciano addomesticare, fino alla fine ci guarderanno, con un occhio calmo e molto chiaro. Bellissimo, ma non è finita, non è finita, non solo Zbigniew Herbert ha scritto la poesia sui sassi, anche la grandissima Vieswove Schimborska, Vieswove Schimborska ha scritto una poesia bellissima, conversazione con una pietra. Lei tenta di parlare con una pietra e la pietra le risponde, nella finzione poetica, dicendo che non può parlare, perché è una pietra, quindi non può rispondere. Le risponde che non può rispondere, ma... conversazione con una pietra. Busso alla porta della pietra. Sono io? Fammi entrare. Voglio venirti dentro, dare un'occhiata, respirarti, come l'aria. Vattene, dice la pietra. Sono ermeticamente chiusa, anche fatte a pezzi, saremo chiuse ermeticamente, anche ridotte in polvere. Non faremo entrare nessuno. Busso alla porta della pietra. Sono io? Fammi entrare. Vengo per pura curiosità. La vita? È la sua unica occasione. Vorrei girare per il tuo palazzo e visitare poi anche la foglia e la goccia d'acqua. Ho poco tempo per farlo. La mia mortalità dovrebbe commuoverti. Sono di pietra, dice la pietra, e devo restare servia per forza. Vattene via. Non ho i muscoli per ridere. Busso alla porta della pietra. Sono io? Fammi entrare. Dicono che in te ci sono grandi sale vuote, mai viste, belle in vano, sorde, senza leco d'un passo. Ammetti che tu stessa ne sai poco. Sale grandi e vuote, dice la pietra, ma in esse non c'è spazio. Belle può darsi. Ma al di là del gusto dei tuoi poveri sensi, puoi conoscermi. Però mai fino in fondo con tutta la superficie mi rivolgo a te, ma tutto il mio interno è girato altrove. Busso alla porta della pietra. Sono io? Fammi entrare. Non cerco in te un rifugio per l'eternità. Non sono infelice. Non sono senza casa. Il mio mondo è degno di ritorno. Entrerò e uscirò a mani vuote. E come prova ad esserci davvero stata, porterò solo parole, a cui nessuno presterà fede. Non entrerai, dice la pietra. Ti manca il senso del partecipare. Nessun senso ti sostituirà a quello del partecipare. Anche una vista affilata fino all'onniveggenza a nulla ti servirà senza il senso del partecipare. Non entrerai. Non hai che un senso di quel senso. Appena un germe. Solo una parvenza. Busso alla porta della pietra. Sono io? Fammi entrare. Non posso attendere duemila secoli per entrare sotto il tuo tetto. Se non mi credi, dice la pietra, rivolgiti alla foglia. Dirà la stessa cosa. Chiedi a una goccia d'acqua. Dirà come la foglia. chiedi infine a un capello della tua testa. Scoppio dal ridere, d'un'immensa risata che non so far scoppiare. Busso alla porta della pietra. Sono io? Fammi entrare. Non ho porta, dice la pietra. E così si scrivono poesie anche sui sassi. E forse, forse facendo qualche passo in avanti, salendo appena qualche gradino in più, un giorno si scriveranno grandissimi poemi su un bicchier d'acqua.